Salve ragazzi, bentornati su Extreme Survival Island, la custom map che sto schifando tantissimo perché non ce la faccio Sono qua insieme a Giovanni Treibor, chiamato per gli amici Peppino E niente, stavo cercando di capire cosa fare, ma sinceramente io non lo so che cosa devo fare, non ne ho proprio idea Sto senza armatura, sto con una spada di pietra e devo buttarmi in un dungeon carico di gente Alla ricerca di qualcosa, un blocco, non so manco io che devo cercare Quindi ragazzi, che vi devo dire? Stiamo messi male, stiamo messi malissimo, non male Ok, è finito anche il piccone di pietra Bene, sono contentissimo Moriremo male Ragazzi, se io muoio qua, non so come fare a riprendere in mano la situazione però, io ve lo dico Cioè, questa custom map è potenzialmente la morte, guardate, qua si è unito tutto Mamma mia, qua si è unito tutto Ok, qua abbiamo capito che ci sono questi E ciao, ciao, ok, ciao Domani è un altro giorno Non avrei mai dovuto fare questo giro della morte, effettivamente No, effettivamente è stata una cretinata Ok, devo cercare di scappare Va bene, ho scherzato, me ne vado qua, mi mangio la mia bistecchetta di carne Facciamo finta che non ci siamo mai visti, non ci conosciamo e basta Ok, l'approccio ad entrare in quella piramide dall'alto penso che sia una grandissima cretinata E qui ci siamo Ok, quindi proveremo un altro tipo di approccio Che è quello che si chiama tunnel Quindi io faccio una roba di questo tipo, piano piano Mi costruisco uno scatolino Protetto da tutti Però muoviti, se devi venire a rompermi le palle almeno accedere Non è che sto qua a 30 anni a vedere tu che fai Signor scheletro C'è della lava, perché non si fa un bagno e si leva dalle palle anche lei? Molto gentilmente che io sto finendo il cibo in un modo drammatico Ok Facciamoci sta camera di scavaggio Così Senti, io ti prenderei un attimo a pietrate in bocca Oh, perfetto Bene Siamo qua Siamo noi Io Voi Quattro pietre E un piccone che sta morendo Va bene Non è un grosso problema Ora Proviamo a vedere cosa c'è in questa piramide Stando in una situazione un attimino più tranquilla Forse Ora, non devo mai fare l'errore di far cadere qualcuno qua dentro perché muoio male Allora, qua ci sono degli zombie E fin qua tutto a posto Qua anche posso rompere un attimo Proprio giusto un attimo Tanto per dare un occhio E poi richiudo E vabbè, e non ce ne frega niente Qua abbiamo visto che Almeno da questa angolazione non si vedeva nessuno Qua cosa c'è? Ancora nulla Va bene Ti prego piccone campa un po' Per favore Che porca miseria Questa custom map Cioè, ce la faremo tutta quanta scavando dei tunnel La custom map delle talpe Non lo so Qua c'è addirittura della lava È quella che ho buttato io Giustamente Quindi siamo sotto quel mob spawner Che riusc... Oh mio Dio Ho trovato un mob spawner Mamma mia Mamma mia E questa è fortuna spacciata proprio Cioè, questa è proprio la fortuna La fortuna massima Che ti può capitare In questa mappa L'abbiamo avuta Sono riuscito a beccare un mob spawner Non posso vedere qualcosa da qua Non posso vedere niente Giustamente Ma io appena rompo un blocco Lo so che mi arrivano 2000 persone Allora Vedo un creeper in lontananza Vedo degli altri arcieri assassini In lontananza E quindi io che devo fare Provo ad andare per sotto Proviamo ad andare per sotto Ragazzi Non c'ho alternative Io non so che devo fare Quindi scaverò un buchetto qua Così Eccoci qua Perfetto Scaviamo un bel buco così E facciamo un buco Per vedere cosa c'è qua su Cosa c'è qua su E io che ne so Cosa c'è qua su Probabilmente niente Cioè, devo smontare la piramide Per capire cosa c'è Va bene, va bene Va bene Ok, ok Mettiamo delle torce Altrimenti voi poverini da casa Non vedete niente Mie piccole cavallette mufloniche Accecate dal bagliore di questa mappa Porca zozza Eeeh Chi è che si buttava nel buco secondo voi? No, non ho visto l'ender Vabbè che anche se lo vedo L'ender mi sa chi se ne frega Cioè, sto qua Allora Cerchiamo di avanzare Verso il centro di questa piramide Perché secondo me E' una piramide Cioè, secondo me Al centro Che da quello che ho capito Lateralmente Stanno tutti quanti gli spawner di sti tipi E ok Quindi il centro è di qua Questo è il centro Dove sto? Che è sto posto? E ma chi ci va là? No, 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 no Proseguiamo un attimo di qua Ok Facciamo un buchetto Ragazzi, sto esplorando la piramide Praticamente Questo, questo posto Fermi tutti Cos'è? Che cosa mi stava buttando? Chi mi stava buttando giù Stavo per cadere nella lava Non ci voglio credere Come? E perché? Perché c'è un buco nella lava? Cioè, perché c'è un buco nella piramide? Allora, con calma Facciamo una cosa di questo tipo Fatemi un attimo Fermi tutti Questi mi attaccano dall'altra Ok, ho chiuso Perfetto Cosa? Perché c'è un buco? Cioè, per caderci Maddoh Che pall No, ma io la sto schifando tantissimo Sta custom map Ragazzi, ve lo giuro Ma perché? Ciao È grandissimo lui Mi lasci qualcosa di buono Tipo una spada, per favore Questi non ti danno niente Ragazzi, questi non ti danno manco niente Ok Senti, fatemi un attimo rompere di così C'è un creeperazzo Che ha rotto le balle Quindi non posso più vedere cosa c'è Bene Ho finito il piccone Quindi Adesso che cosa faccio io? Perché c'è questo? Sto buco mi incuriosisce tantissimo Allora Come faccio a vedere cosa c'è in questo buco? Con calma Mamma mia Oddio il terrore Con molta calma Per favore Non morirci malissimo Non c'è assolutamente niente qua sotto C'ho l'acqua Sono un cretino C'ho l'acqua Io c'ho l'acqua Ma perché non la uso l'acqua? Ok Mi affaccio E me ne vado C'è una cesta Ok C'è una cesta Fermi C'è qualcosa? Non capisco cosa Oh Con molta calma Con moltissima calma Attenzione Quella è una cesta Raga Questa è la santa E il coso Il bloc C'è me l'avevano messo sotto la piramide Sti bastardi Sì vabbè però Dai C'è Raga ma obiettivamente Ma non è una mappa normale questa C'è ma Ma perché? Perché ci sto giocando? Perché? Sali un attimo qua su Sì dovrebbe essere il coso della La pedana Aspettate aspettate Fatemi fa Un attimino così Vai di qua Vai di qua Ok Questa è la pedana Che se la premi Ti dà il blocco di lana Giusto? Giusto Signore Abbiamo la lana magenta Ma io No ma sta custom mappa Raga Non ci si fa Mo Devo andarmi a prendere Quella roba lassù Ok Con calma Ce la posso fare Ce la posso fare tantissimo Mi raccomando Attenzione allo shift Che lo shift in questi casi È bastardo Lo sappiamo tutti Che quando stai con la lava Sotto il culo Lo shift ti abbandona Madonna mi sto terrorizzando Ma perché Vai Ok Ok Con calma Con molta calma Cosa c'è? Due diamanti Degli smeraldi Delle ossa Vabbè ti ringrazio E una testa di scheletro Che non me ne faccio Assolutamente niente Va benissimo così Ora Me ne devo uscire da qua Quindi devo assolutamente Risalire su per forza Esatto Dove Dove ho messo La secchiata Vai di qua Perfetto Mi riprendo anche l'acqua E dovrei Uscire Sì Da dove arrivo? Di qua? Ok Ok raga Stiamo uscendo Non ci voglio credere Oddio mi si è terrorizzato Pensavo che ci fosse un buco Terribile Stavo morendo malissimo Allora Non c'ho più niente Non c'ho Non c'ho l'ascia Non c'ho niente C'ho un'ascia Sì un'ascia ce l'ho Ma non ci faccio niente Rompiamo qua Spadina alla mano E dobbiamo solamente scappare Giusto? Sì Dobbiamo scapparci Ne tantissimo Ho lasciato qualcosa Da quel tipo là? No Io ora devo raggiungere Quel posto Ok E' tutto molto fattibile Ce la possiamo fare A meno che non mi si butta un creeper in faccia Via 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 Chiudi assolutamente qua Guarda d'intorno Come se torna a casa A modo da qua Chi si ricorda? Devo salire? No Forse devo scendere Probabilmente sì Sì Ok ragazzi Abbiamo preso un altro blocco di lana Questa mappa non è normale Comunque io ve lo dico Allora Adesso facciamo un discorso serio E' bella Ma ti dà talmente poche risorse Che diventa brutta Perché praticamente è una sofferenza Io non posso affrontare un dungeon Come quelli là Con dei pantaloni di pelle E basta ragazzi Non è assolutamente umanamente fattibile Come cosa E nemmeno mi diverto tanto A farmi i dungeon Scavando in stile talpa Alla ricerca di qualcosa Cioè Non lo so Qua che cosa ci avevamo lasciato Un po' di roba Me la prendo Me la porto pure Guarda mi prendo pure questo Ce l'ho l'ascia Da qualche parte C'ho un'ascia Sì prenditi pure questa Perché ragazzi Siamo scarsi a material Mi prendo pure la cesta E cerco di tornarmene a casa Se ci riesco Se mi ricordo dove si va Soprattutto Di qua no Si andava di qua Con calma Perché ragazzi Mica siamo ancora usciti Cioè qua basta Una frecciatina Ok Siamo di nuovo qua Me l'ho dimenticato Quindi mo devo fare il salto Salta salta tantissimo Ok Attenzione allo zombie Che ti butta nella lava Porca miseriaccia Zozza me la sovvista brutta Mamma mia come la sovvista brutta Qua abbiamo preso tutto Vero? Sì Sta arrivando uno zombie Mi posso prendere la cesta Me la prendo Guarda me ne frega niente Mi sono preso la cesta E me ne vado di nuovo Qua su Attenzione qua Spuntano i creeper Attenzione allo Eh lo la il creeper Meglio lo zombie Ma molto meglio Ma diecimila volte meglio lo zombie Guarda zombie Balliamo insieme Il ballo del creeper Che salta Maledetto Ma perché ci sono sempre creeper Dove passo io Perché Allora Adesso dovrebbe Ecco appunto Dovrebbe arrivare Il momento in cui esplodi E ti la vi dà le palle Grazie signor creeper Ok Cerchiamo di risalirla Con molta Calma Ma porca miseria Io che faccio le custom Ma passassi No non mi sta piacendo È bella L'ho detto però Troppe poche risorse Raga Non Non è nemmeno Questione di Di essere bravi È questione che Cioè Come cavolo fai Questa è lana Non è lana Perché Perché la scambio per la lana Ok Ok con calma Con calma Vai Vai che questo dungeon Non ci torno più Mene frega niente Se c'era un'altra cesta Nascosta Perché secondo me Sicuramente Ecco appunto Quella è una cesta Eh ma io come la prendo Cioè obiettivamente Dai come la prendo Quella cesta Ci posso provare Aspetta No ci proviamo Facciamo un'operazione Kamikaze Intanto portiamo Sta roba a casa Santo Dio Pure i creeper Maledetti Un altro creeper Nell'ombra Stavo morendo Stavo cadendo giù Con la lana Ma va Quazzi lì Pappero Pappà Corri Corri Non ci pensare Non ti voltare Butta tutto Quello che c'hai Soprattutto la lana Qua dentro Mamma mia Ok Ok con calma La lana L'abbiamo presa E quello è l'importante Mangerei anche qualcosa Anzi no Non le consumo queste Mi mangio la carne Di zombie Perché adesso Devo andare a fare Una cosa Molto kamikaze Una cosa Molto kamikaze È quella Che vi sto spiegando Adesso Mi tolgo tutto Ma io c'ho Delle altre ceste Ma perché non le metto Le altre ceste L'ho portate apposta E porca miseria Anche io sono deficiente Mi tolgo tutto Ragazzi Tutto Vado solamente Con la carne marcia Di zombie In modo che posso Smangiucchiare qualcosa E ovviamente Con dei blocchi Altrimenti Che cacchio Piazzo Terra L'aria Con dei blocchi Proverò Proverò A raggiungere Quella ceste Ok Non ce la faccio sicuro Però non me ne frega Proprio niente A proposito Cioè a proposito Ma io ho dormito Dal tipo là Quindi se io adesso muoio Rispunto qua Allora a sto punto Fatemi fare una cosa Scusatemi tutti Dammi sto blocco di lana Per favore Andiamo a piazzare Il blocco di lana Così vado anche un attimo A dormire a casa Ok Io mi perdo puntualmente Perché giustamente Il mio senso Dell'orientamento Da coyote Del deserto È una roba incredibile Ho detto coyote Per non dire altre cose Ok saliamo E qua ragazzi Devo mettermi a forma ferro Cioè a costo di mettermi qua Ammazza tutti i zombie Che spuntano Alla ricerca di un lingottino Di ferro Ma io ci devo andare Con un'armatura di ferro Nel prossimo dungeon Perché non è fattibile Almeno Un'armatura di ferro E se no come si fa? Cioè non ci si fa È sempre giustamente È notte Perché fosse una volta Che io spunto qua Di giorno Ciao Ma quel maiale Ha fatto casa Ok non ce ne frega niente Del maiale Oddio ma non ho mangiato Sì ho mangiato Ma la carne di zombie Fa schifo No devo arrivare a casa Non mi posso permettere Il lusso di morire qua Ragazzi Perché se muoio qua Di spunto là dentro È un casino Va E cammina Perché ti blocchi Mentre salti Sto deficiente Dai ce la sto facendo Tantissimo Dormi dormi Bene Ok E questo è fatto E almeno lo spawn L'abbiamo risettato a casa Ora vado a piazzare Sto blocco di lana Al monumento Della vittoria mistico Saltando giustamente Gli zombie Che trovo per strada Eh perché Non bastano I zombie Nei dungeon Pure qua Devono starci i zombie Ma per favore Ok Sono qua Sì Benvenuto Grazie Guarda sei gentilissimo Allora sto facendo in ordine Ma che culo Ok Mi dai qualcosa Per favore No lui non ti da niente Hai piazzato il blocco ma già Bravo bravo Hai fatto metà del tuo dovere Ma non ti da un cacchio Va bene Vabbè ok Che vi devo dire Non vi posso di nulla Ok riusciamo fuori Molto bello Ecco io avrei curato un po' di più Il monumento Insomma Con dei premi Sai Almeno c'hai uno scopo Che prendi il blocchetto di lana maledetto Perché così È un po' no sense la cosa No? Mi prenderò anche qualcosina da mangiare Ma giusto Ma proprio poco 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 Non ho lasciato niente qua Nelle fornaci Non c'è un cacchio Nelle fornaci Qualcosa di crudo Niente Niente Il deserto Ok Niente Aha Queste mi potrebbero essere molto utili È vero Non ho armi Ma almeno li tengo a distanza Ok Vediamo se possiamo riuscire A prendere Quella chest Non ci credo manco un po' Però ci posso sempre provare Proviamoci Intanto butto cose a caso a terra Perché Perché si è bello Ecco Prendiamo del cibo buonissimo da terra Che è sempre la carne di zombie ragazzi Ormai quello è il cibo preferito Per i veri guerrieri Che non devono chiedere mai Mangiatevi della carne Marcia di zombie E campate felici Qua c'è il solito scheleto Che adesso mi massacrerà le palle In un modo assurdo Ovviamente Io mi devo ricordare Che c'ho quattro cuori in croce Non ho armatura Non c'è niente E quindi posso morire Anche semplicemente Se uno mi fa uno stornuto in faccia Il che non è una bella cosa Ok Mangiamo Con molta calma E incamminiamoci lì dentro Sperando di non beccare Creeper assassini Nascosti tra l'angolo Anzi guarda Io questo me lo metto qua Così Ecco appunto Non vole Porca miseria Potresti mangiare? Grazie Ok Non ti sto guardando ragazzo Non ti sto proprio guardando Bene Io ci provo raga Ma se muoio Muoio Non ce ne frega niente Tanto abbiamo Il blocco di lana L'abbiamo posato Ho sentito un creeper? No E quindi siamo a posto Allora Là c'è una cesta Quella è chiaramente una cesta Che sta vicino A uno spawner di qualcosa Sarebbe stato furbo Portarmi il secchio di lava Effettivamente Potevo farmi un pillarone Esagerato Per arrivare fino là E però Secondo me In quella cesta C'è un sacco di roba buona Cioè è proprio circondato da spawner Quasi quasi Un pensierino Ce lo potrei anche Eh sì Ciao Quella cesta Già l'ho presa E qua come faccio? Non penso che sia fattibile Questa cosa Cioè non penso proprio Che sia fattibile Ecco Posso solamente disturbarti Non posso fare altro Magari quello Lo riesco a buttare giù? Ok Quello l'ho seccato Vedi la potenza Della palla di neve Usata nel modo appropriato È qualcosa di molto figo Ecco Posso sfruttare Le palle di neve Per buttare la gente Giù Tipo quello Lo posso buttare Eh Ok Adesso non posso più buttare giù Però va bene Stavo morendo male Ciao Signor zombie È sempre un piacere Mi raccomando Finisca nella lava Per favore Morto da solo Ok Come cavolo ci arrivo io A quella cesta Che sta lontanissima Vabbè ragazzi Provo tanto l'ho detto Questa è un'opzione Kamikaze Operazione assassina Morte Che viene dall'alto Per me ovviamente Ecco Il creeper Ci ha appena devastato La via di fuga Sono contento Mamma mia Buongiorno Buongiorno signor zombie È sempre un piacere Mettiti l'arma Mettiti un'arma potente Mettiti un'arma Non era previsto Che arrivasse Tutta quella gente Oh con calma Con calma Potrei 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 fare qualcosa Di carino Se questo casca Nella lava Sto deficiente Magari è meglio Ok Forse non stanno arrivando Non è vero Stanno arrivando tantissimo Stanno arrivando tantissimo Allora Non mi ha ancora visto Non mi ha ancora visto Potresti mettere Un cacchio di blocco A terra Per favore Giusto per farti Un muretto Dell'invisibilità Così Ok Ok Non mi stanno vedendo Perfetto Perfetto Così Nessuno potrebbe Ecco M'hanno visto Non importa Ora se avessi un piccone Sarebbe bellissimo Però La fine Questa non è nemmeno Tanto rognosa Da scavare Quindi posso scavare Da qua E cercare di raggiungere Quel posto Adesso mi metterò A scavare A mani nude E ci vediamo Tra un po Qualcuno mi spiega Questo come è entrato Qualcuno mi spiega Questo come è entrato No 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 Questo mi fa fuori Questo mi fa fuori Ho fatto fuori E niente ragazzi Ci abbiamo provato Vabbè Non fa nulla Comunque Questo episodio Finisce qua Il blocco di lana Ce lo siamo presi Quindi chi se ne frega Alla fine di tutto Voglio dire Magari off camera Mi metterò a spammare Un po' di roba A farmo ferro Con gli zombie Faccio qualcosa In modo che nella prossima puntata Siamo un attimino più attrezzati Per ora Io mi fermo qua Se la puntata vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Spolliciate Condividete sia il video Che il canale Sui vostri social E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Cliccando sulla campanellina Io mi fermo qua E come sempre Vi do appuntamento sul canale Per un prossimo episodio Ciao ragazzi